Ciao, come ti chiami? Gregorio. Da dove vieni? Da Briosco. Come mai sei qui oggi? Che cosa ti ha portato qui? Perché mi affascina il mondo degli anime, dei manga, della cultura giapponese e mi affascina la cucina e la cucina giapponese. Quindi oggi sei venuto a vedere pranzo a Konoha che preparava delle ricette. Cosa ti è piaciuto della mostra? La parte delle cento candele e l'armatura dei vestiti, l'armatura dei samurai. Bene, quindi lo consiglieresti? Sì, sicuramente. Grazie.